Siamo in chiusura ancora con gli esordienti per questa seconda esibizione Caraccio, Eurgio, Linio, Torno, Urania, Osteno, Verbanese, Caldese e poi il tecchio della canapiera Rolo di Emanuele Tolestini e Simone Caraboli all'esterno ecco in volata per andare ad artigliare questa bella esibizione la seconda prova gli esordienti con l'Elba e Filippo Piducchi ad andare a tagliare il traguardo davanti a tutti e poi ancora insieme alla canapiera di Caldese, bellissimo e poi in acqua due cieli per guardieri della Filippo, Linio, Torno a seguire Gregorio Tunghi della Verbanese e poi ancora Carate e Nea Carugatti ragazzi e Simone Renato dell'Urania artiglia di Natapassi ragazzi una volta completata la propria esibizione ragazzi 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 ragazzi